Letteralmente vincere un game senza mai atterrare Allora, partiamo in modo molto semplice Aspettiamo fino alla fine, ci buttiamo, apriamo subito il delta plano e rimaniamo fermi Quando stiamo iniziando a scendere, andiamo su un rift Automaticamente rivoliamo in altissimo E continuiamo a cercare di andare di rift in rift Cercando di non atterrare mai nella mappa di gioco e di vincere un match così E la challenge che hanno fatto a livello internazionale Poi l'ha fatta Gonx, il nostro obiettivo è battere Gonx E infatti io l'ho vista da Gonx Che se ricordo bene è sceso, tipo, non mi ricordo se era ventisettesimo o tipo diciannovesimo Ricordo questi due numeri totalmente diversi tra loro Ok, allora il nostro obiettivo è battere Gonx Tipo facciamo quindicesimi e ce la facciamo Allora, Steph, ovviamente tu hai la mappa A che rift puntiamo? Per ora devi stare immobile con il delta plano Sei immobile Proprio fermi così E ci facciamo già 50 player morti Poi vediamo un attimino Perché in questa zona ne abbiamo tanti Però ovviamente gli altri player, i rift li prendono Ovviamente E noi non sapremo se li hanno presi o meno Quindi tu magari vai lì e non lo trovi e perdi subito In questa zona noi abbiamo Quelli dei vichinghi Ok Sulla montagnona Ok E quelli di boschetto Altrimenti potremmo andare Ce ne dovrebbero essere qua da qualche parte Dove ho messo il segno adesso, vedi? Ok Che teoricamente secondo me lì non c'è nessuno E io andrei proprio là Ok Se la zona chiude nei punti giusti Ti dico, è fattibile Vorrei che chiudesse nella parte a destra Eh, sarebbe bello Se chiudesse nella parte a destra Forse ce la possiamo fare È tosta secondo me Perché ti ripeto Ma poi hanno uno spawn sicuro? Allora Almeno uno in ogni cerchietto Che ho segnato nella mappa C'è sempre Perché io mi ricordo che a volte tipo vai Tu sei sicuro di trovare una posizione Non c'è Magari ne trovi lì vicino Ma non c'è quello che devi cercando Perché il concetto è Se nemmeno l'hanno preso L'hanno preso Capito? Cioè Se tu adesso come so La prima volta in cui vuoi scendere Vai in un punto tutto tranquillo Ed è preso Sei morto Eh, lì è un casino È finita Allora Poi è molto divertente da vedere questo No, guarda che è tesissima come cosa Vicino al ponte Quindi dovrebbe essere qua Ok Sai cosa? Io ti direi Iniziamo ad avvicinarci E a vedere se c'è Perché se non c'è Dobbiamo puntarne a uno più avanti E vorrei avere Un po' di spazio di manovra Non vorrei rischiare troppo Il problema è che non li vedi Da così in alto Però almeno noi siamo già sopra E prima o poi ce li caricherà Ok Allora la pietra c'è E la vedo già Non so se ci sono i rift Però io mi rifermo Perché sono già più o meno Nel punto giusto Sinceramente Sono praticamente sicuro Di vedere un rift blu Vicino a quella pietra Fermati, fermati, fermati Ma quale pietra? Guarda il mio schermo Questa Ah sì, la vedo E quello lì è un portale blu C'è, 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 c'è Ok Lo vedo Quindi il primo è andato Ok ma adesso Arriva un player Arriva Eeeh Lo scemo Va dritto Bum E tu è Vabbè E lo insulti E vabbè Il pezzo difficile È il prossimo Perché con questo volo Dobbiamo andarci abbastanza secchi Quindi inizio a cercare Di mettere già il segno E dovrebbe essere Qua Ok Inizia a avvicinarti già al portale Che stiamo a persendere Raga sono già morte 45 persone Non è un gran che Lo so Però non so Fa figo Capito Ah ce n'erano anche un altro Qua ce n'erano pure due La zona è in un posto Che non ci piace Ok quindi ci vanno dritta Ma qua ce ne sono anche tre Sì 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 Venta pure in un portale Tranquilla Ah sono tre addirittura Vabbè easy Ok Ok preso Quindi dove vado Dove c'è il segno Quello rosso Non lo vedo Ah eccolo Calma Lo vedo Lo vedo tranquillo Calma Quindi così ci muoviamo Io li vedo già Io li vedo già Io li vedo anch'io Ok 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 Volendo Cavolo non ci abbiamo pensato Possiamo prendere gli stessi rift Eh sì Facciamo così adesso Che qua ce ne sono quattro Cerchiamo di prendere lo stesso cara Ok Quello a fianco al camion Ok Ok quello alla sinistra del camion Alla sinistra quindi questo Esatto Ok Ok l'ho preso Ok Apri subito E adesso scendiamo su tutti gli altri Quando li finiamo Quindi quando siamo all'ultimo Andiamo nella prossima location Ok Ma non ci avevo pensato Perché non guardo mai I video degli altri Perché voglio che la tattica Ce la inventiamo noi No perché sennò poi anche a livello inconscio Ti esce uguale Quindi anche se io non lo dobbiamo Dobbiamo avere la nostra tattica Probabilmente hanno fatto tutti così Però ci siamo arrivati da soli Capito? No il bello è quello Perché poi magari a ognuno Escono challenge diverse Qui? Questo qua vicino al camion Quale? Questo qua? Questo? Questo dove sono io? Sì? No ma l'hai fatto missare Steph E prendine un altro E sono scesa giù Vabbè Devo continuare da solo Vabbè Perché l'hai missato? Perché Steph Ma lo stavi cambiando ogni due secondi Ti ho detto Quello a fianco al camion Ce ne sono uno No questo qua è dietro il camion Guarda la vedo dall'alto cara No ma lo riprendo Guarda lì Non mi rompere le scatole È colpa tua È stato un errore Guarda lì Quello era a fianco Ma non è a fianco Io me ne riprendo un altro Ma frega nulla Aspetta che prendo l'ultimo Ok? No io la rifaccio Perché è stata colpa tua Non è stata colpa mia Che non mi stai dare bene indicazioni Mi osservi Mi metti stress È stata colpa tua Ti aspetto all'ultimo E mi prendo l'ultimo Esatto Allora non mi rompere le scatole Ok va bene È stata colpa tua guarda 40 vivi Sta chiudendo la zona E quando chiude la zona È un problema Volevo far perdere la challenge Ma dimmi te Ma stai zitta Zitta Ci sei? Dammi il tempo Che qua vado con calma cara Eh la zona è molto lontano Steph Ci dobbiamo muovere in avanti Fede di stare molto tranquilla È meglio prendere danni di zona Che finire il rift Ok Maledetto Hai visto dove è il segno? Sì Ok Ne vedo già uno Ne vedo già uno Sì lo vedo pure io Ok Quindi che si fa? Prendiamo subito quello? Sì ma con calma Ok Perdiamo tempo Anche perché questo è uno no? Sì Ok Ok Quello dopo 40 vivi Quello dopo dovrebbe essere lì alla sinistra Cavolo Sembra un po' più complesso L'ho visto ma sembra molto in alto Apri subito eh Subitissimo Ok 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 Su questa roccia qua Ok Adesso stiamo calmi qui Questo è molto buono Perché è super in alto Sì Ce ne sono due Io li sfrutterei entrambi Te l'ho dito Sì Facciamo questo Meglio prendere danni di zona Perché non ci bastano i risti Anzi sono addirittura tre Ce ne uno è dal centro proprio della montagna Ok Prendiamo questo Mi vedi? Sì Ok Aspetta 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 Ok Ok L'ho preso Adesso in quale andiamo? Quello di destra Teniamoci per ultimo Quello sul ponte Ok Quindi questo qua Mezzo per terra Ok 36 vivi Arriva la zona Eh Quello è il problema Ci prendiamo un po' di danno Fidati Voglio arrivarci a 10 HP Ma voglio arrivare in una posizione altissima Di Di caduta Ok Vai Ok Perfetto Bravissimi Quindi questo Esatto E adesso ovviamente andremo a prendere quelli della città Che potrebbero non esserci Esatto Ok Cavolo Esatto Passiamo Potremmo rischiare adesso eh Potremmo Questa è la prima volta che rischiamo di atterrare Andiamo? Sì 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 Apri subito Aperto Ok Andiamo verso lì Guardiamo al volo E dopo che dobbiamo virare molto alla sinistra Ok Ce n'è? Mi sa di no Perché è tutto billato E secondo me non ce n'è No no non ce n'è Ok sinistra Ok ti seguo Ok qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è Dov'è? Ne vedo uno Qua al lago Ne vedo anzi due Ok Li prendiamo entrambi? Perfetto Sì Ok Anche se stiamo iniziando a prendere parecchio danno Steph Quale prendiamo? Questo qua? Sì questo qui Ok Sto cercando di prepararmi a mettere un segno nella mappa per i prossimi In modo tale che adesso poi andiamo in zona Allora Ce n'è uno qui Qual è il secondo al lago? Io non lo vedo E dall'altra parte del lago Cavolo continuo a non vedere Sì è piccolino Dove c'è la casetta distrutta? Ah ecco lo si Stavo guardando un po' più vicino al lago Ok Ok Ora dobbiamo prendere questo e andare in zona Sì Steph assolutamente Ho messo il segno rosso eh Concentrata Veloci veloci Inizia a colpire due Mi sa No Vai 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 Siamo davvero bassi Delta plano subito Ok sul rosso sul rosso sul rosso Ma non ce la facciamo Steph Sì ce la facciamo No io sono morta Ce la facciamo C'ho 23 di vita 25 Se come ce la possiamo fare? Dovevamo per forza giocarcela così Perché il drift Nell'altra parte della zona sono molti meno Eh lo so Ma c'è? Sì c'è qua c'è qua c'è qua c'è qua c'è qua Però c'è Devo prendere questo Steph ho 5 di vita Muoio muoio totalmente Dai Niente Steph Mi dispiace Avevo 1 di vita Ce la faccio Per ora ce la faccio Dai vai tu vai tu Quando ho superato No No Mi stanno sparando No prendilo Me l'hanno fatto perdere Non ci credo No dai 24esimi Ma porca miseria Perché mi spara quel criminale Ma cosa ci fai lì? E poi cosa vuoi? Se prendo quel fucile Ti buco la faccia Te lo giuro Aiuto Steph torna indietro Perché fa? Sì sono lì Ce la giochiamo Cioè sei dentro la zona? Sì Eh ma mi rispara il criminale Arrivo lì con un coso E vieni a arrestarmi E se mi dita Sono morto 5 HP Letterali Ora viene meglio Ok Ma ce la giochiamo a sto punto Ma sei lontan Non ce la facciamo Mi fai morire Vabbè arrangati Sei troppo Vabbè ciao No no Non farmi sentire in colpa Sì Mi volevi far perdere la challenge Poi perché avevo meno vita di te? Non lo so Questo non lo so Cioè che siamo stati Nello stesso punto Nella barriera Allo stesso tempo Non lo so Perché io avevo meno vita di te Non è possibile questa roba Non ho idea So solo che senza questo criminale Io avrei preso questo qua Di questo punto Ok Sarei potuto arrivare A quello di tomato E guarda In questo momento siamo a 21 Io starei ancora volando Però ovviamente Con la geneza Non è più probabile Che ti sparano Sono le cose che capitano Perché ovviamente È difficile la challenge Uno ti vede Ti metto a sparare E poi se ne vanno in giro Con i carrelli Crettini E vabbè E mo gli sparo Vabbè Io sono morta Quindi almeno posso vedere Il tuo gameplay E mo gli sparo Eccoli Ci stanno Ci sta Era bello avere lo shield Ti piace È vero Ti piace Essere sparato Di fatto loro non mi hanno mai colpito Io li ho colpiti Quindi La sfida l'ho vinta Esatto Ora scappo Continualo vai Ciao Arriva l'altro di tomato Puoi vedere come sarebbe stato No 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 Devo pensare a lutare adesso Fare altro che far vedere come sarebbe stato Era bello Ho bisogno di qualcosa Ho bisogno di qualcosa Comunque sarei arrivato Raga lì in quello di tomato Avrei preso là E sarei arrivato magari 15 Forse anche 10 Perché poi c'era quello di rapide rischiose Quel postaccio lì che non so mai il nome In italiano Rischi Reels sarebbe Rapide rischiose E quindi non lo so Non lo so Sarebbe potuto andare parecchio bene Sarebbe potuto andare parecchio bene Sinceramente sono tristissimo Però mi servono le cucchie Stavo giocando senza Allora ormai giocatela Cioè è difficile Perché 5 di vita Sporzano 5 di vita Eh tranquilla Però dai Ce la si può giocare A posto A posto Sì il problema è che questo è il mio equipaggiamento Eh lo so Lo so Non è che si può fare molto Però vincere e vincere Vincere e vincere Ce la tentiamo 15 vivi 15 vivi 100 shield e 100 vita di fatto Guarda lì Buona Bella questa Buona 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 Cioè mi serve Cavolo volevo farla tutta la sfida Peccato Eh oh Fere Gli altri player ci sono in gioco Che ci vuoi fare Però secondo me la totica era giusta Di stare con i tanto furi zona Vero? Sì Cioè secondo me Pensa quanti pochi ne avevamo ancora Secondo me era l'unico modo Bisognerebbe anche poi Dico però Per i fatti propri Tentarsela in In parco giochi Per allenarti A fare il giro migliore E poi ci ritorna Però anche quanti rift spawnano È casuale Magari una volta ne trovi 10 Una volta ne trovi pochissimi Quella è vero Quella è vero Vabbè in parco giochi Poi ci riesci Sicuramente Perché non c'è nessuno Non c'è la zona Poi infatti il difficile È riuscirci in un game normale Esatto Ok Sento ancora altri rift Io ovviamente sto farmando Un bel po' di legna Ah ma qua c'è uno dei colpi Li prendiamo volentieri Perfetto Non credo ci siano altre ceste Prendibili Purtroppo non ho trovato Nessun fucile a pompa Per terra in giro È un otato Ho pochissime munizioni Proprio 58 Vabbè È normale Non abbiamo mai luttato Sento gente che fighta Ho paura Ferè 6 Ma quando sono 6 vivi Ma com'è possibile Cioè ce l'avrei fatto Sono riuscito ad arrivare a 6 Secondo me Se non mi avessero toccato Che fortuna Sarebbe stato un record Che maledetto Quello là Ci ho rovinato tutto E poi sono andati in giro Cioè ce l'avresti fatto Davvero probabilmente a 6 vivi Te l'ho detto Cioè non ci credo E lo so Che sfortuna Guarda facciamo la cosa più figa Che possiamo Ovvero cerchiamo di vincerla Esatto 5 vivi Sono contro 4 Quindi 2 team Ma ne sto fregando Raga degli alberi Perché tanto Cioè qua Secondo me si stanno sparando Un po' più lontani A livello di sound Mi è sembrato Anche secondo me Non sono vicini Ok comunque 500 di legna Fatti anche quella chest Sì sì certo Continuiamo Dai che non è male Non è male Dai Vabbè carucci Allora come me la posso gestire Ragiona 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 Forse tolgo il minigun Sì dai Sono un po' più completo Ti può far comodo Capito Niente Esatto È forte quell'arma Mi piace Esattamente Ok Allora 15 secondi Devo iniziare ad andare Un po' più verso il centro Però 600 di legna Raga può fare la differenza Per vincere il game Può fare la differenza Ho 72 colpi di M16 È una miseria Davvero incredibile Però 100 di vita 100 di shield Non è male Quello è ottimo Che sei riuscito comunque A refullarti È davvero ottimo Steph Comunque da speranza Gli altri team Non sembra che stiano Fightando Comunque No però li ho visti Ovest c'è un team Li ho visti E sembra che stiano Fightando invece Non li sentiamo Perché evidentemente Sono troppo lontani Però ho visto Costruzioni rompersi Anche io Quindi stanno Fightando Credo Spiali Poi magari Quelli che avanzano Li pidi da dietro Una buona tecnica Sei solo Non è così Tanto equipaggiamento Ci sta Stanno fightando Con quelli a lato Mi sembra Cioè lì Contro lì Dici Li vedi Li vedi Li vedi Uno in meno Ora devo pensare A quelli di sinistra Perché so che Quelli a destra Sono uno in meno Occhio 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 a quello là Sì Quello sta scappando Ovviamente questo Lo potrei killare easy Raga Ma quello sarebbe Un 1v1 E va bene Io voglio togliermi L'1v2 Certo Ottimo Ok Anche se adesso Stanno sicuro Dove sei Sì Ah Mo' chiude Sì Mi vedere Cavolo è picco Porca miseria Occhio a che quello Non faccia il giro Capito Perché è andato verso destra È sceso proprio Nella collina Sì 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 Quindi occhio a che non faccia il giro Da questa montagna Capito Lo ritrovi qui sopra Capito Copriti Beh almeno così Perché se mi copri più Mi notano tantissimo quelli E non vorrei No certo Però buttaci un occhio Perché è proprio scappato verso destra Cioè ha deciso di lasciar perdere Sono dentro io Buono 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 Questa è una buona fortuna Dai Almeno c'è No 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 Devo giocarmela meglio Ok Questa è una bella fortuna Anche questa Guarda con tutti i palloncini Tieni Stefan Regalo per te Grazie amici Non male Non male Facciamo così E poi anche un trampolino Che ti si può rivelare Comunque utile Sì Ok Calmi eh Cioè siamo tutti calmi Solo tu sei calma Certo C'è qualcuno là? Beh noi queste cose Non le abbiamo mai fatte no? No ovviamente Tu no Però sembra Cioè c'è del loot Buttato Sì è roba vecchia Però il concetto è Ci sono tornati? Eh quello Oppure non è che quello che ho sparato È anche lui da solo? Mi sta lì Mi sta lì Che sei visto del giallo Verso quell'altra direzione Destra Destra Tipo verso là A 330 Mi pare Che casino Eh cavolo sì È un casino E comunque uno è scappato Non so se sa dove finita Allora orecchie Gli altri sono due Visto? No L'hanno appena costruito Quello Vedo il tuo nick Steph 23 Già stato in gigante Quindi non vedo A 330 Hanno appena finito un build Eccolo Eh non li vedo Non li vedo C'è il tuo nick in mezzo Ok Mi stanno mirando anche Però sì Gli ho visti Gli ho intravisti Tra le lettere del tuo nome Eh cavolo Difficile Vai a cercare l'altro tu Quello dell'altro team Che stai fightando Non rompere Beh ma poi è uno o due Perché ci sono alberoni in mezzo E non ho idea Io ne ho visto uno eh Per quello che riesco a vedere Sì anche io Però eh no Sono due per forza No per forza no Potrebbe essere uno contro uno Contro uno contro uno Per quanto ne sai Eh oh può capitare Sappiamo che un team è da solo Sappiamo che io sono da solo Manca soltanto un team Che può essere un due O essere due team Si sparano Ottimo 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 Le ha indebolito un botto Cavolo Sì comunque Sembrano uno contro uno Che forte Questa arma Affacciati Sta pensando a me adesso Comunque È all'altro sotto però Sì Che non è con lui Modify Perché l'altro sotto È totalmente sotto di lui Fai attenzione Sì sto mettendo pressure Ho finito i colpi In realtà io Ah Però lui non lo sa Io non li vedo i colpi Quindi non posso sapere 40 colpi Tipo Ok E l'altro rimane sotto A non fare nulla Perché secondo me Quello lì è l'aleato Che lui ha a terra Dici Sì Cioè stavano fettando No perché secondo me Sono in tre lì Ah dici La mia teoria è quella 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 Se ne è andato Sì Quindi quello non è l'aleato Stef secondo me Quello che sta sotto Si è nascosto Può essere Può essere Non ci sono colpi Cavolo Eh cavolo Poi c'è lanciagranate È uno scar E che molla qui uno scar No Stef Stef Perché sono due Non lo so Cioè non ho capito Che giro hanno fatto A sto punto Ma non erano in team 1v1 Ok No 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 Ah Calmo Sta arrivando Sta arrivando Non ha capito dove sei Ora sì Ho finto i colpi Cavolo Non so Tira lì granate Non l'hai preso Lanciagranate No Eh vabbè È lì È lì Chissà se lui sa Dove sono io Penso di sì Sì secondo me sì Che ansia Che miseria Ok Ok Vediamo Hai vista la zona? Sì Sì che l'ho vista Certo che l'ho vista No Cavolo Che peccato Che peccato Aveva autokill Sapeva giocare Aveva ancora Scille vita Ed è stato un bel match No vabbè ci stai In svantaggio su un sacco di cose Però te la sei giocata bene Dai te la sei giocata bene Peccato 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 Bella challenge Bel game Sotto comunque Divertentissimo Speriamo che il video vi sia piaciuto Qua sotto come sempre Un sacco di video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao